Buongiorno, oggi vediamo come si può effettuare una visura catastale mediante una consultazione della rendita catastale Agenzia delle Entrate, Servizio Online, Consultazione Renditi Catastali In questa parte facciamo accedi a servizio, ci sono le varie disposizioni, continua qui inseriamo il nostro codice fiscale e in quella posizione qua inseriamo il codice di sicurezza una volta inserito i dati si sceglie la provincia selezioniamo se vogliamo fare una consultazione della rendita catastale dei terreni o dei fabbricati in questo caso mettiamo terreni, mettiamo la scelta del comune scendiamo il comune, potrebbe essere ceto, il foglio in questo caso qua dobbiamo sapere se è sul foglio 1 o 2 in base alla sezione e possiamo inserire il foglio 2 che è nato e la particella interessata in questo caso qua abbiamo una rendita catastale di questo tipo ufficio provinciale di Brescia territorio, catastro, terreni, comune di Ceto, codice del comune il foglio, la particella e qui troviamo individuato un altro foglio la particella, il subalterno in questo caso qua non c'è frutteto in riguo, classe unica i metri quadrati in questo caso sono 50 la rendita catastale 1,50 il reddito agrario per quanto riguarda invece un fabbricato potrebbe essere sempre questo settore qua qui però bisogna inserire il foglio fisico in questo caso abbiamo inserito la ricerca per fabbricati la sezione urbana Ceto foglio fisico 14 la particella ricerca qui ci troviamo tutto l'elenco delle particelle dei subalterni relativi al mappale e entriamo nel dettaglio dell'unità in questo caso qua Ceto particella subalterno civico la classe e la rendita buona giornata grazie a tutti